Buonasera ragazzi, ragazzi miei, postazione di vano, sempre quella, chitarra, una delle mie mitiche ormai consuete tablature e i più acuti di voi avranno indovinato che parliamo di giugno 73, chissà come. Bene, giugno 73, canzone forse non fra le più note del nostro amato Faber, però a me piace, sempre piaciuta e secondo me può essere interessante parlare di come suonare questa canzone perché può dare degli spunti per fare delle armonizzazioni su melodie suonate con la chitarra, contemporaneamente agli accordi. Questo pezzo qui si presta bene. Allora, io dico sempre la stessa cosa, quindi che questo più che un tutorial in assoluto di giugno 73 è un consiglio su come eseguire, su come arrivare a eseguire qualcosa di simile alla cover che ho pubblicato qui su YouTube un po' di tempo fa, non so, un paio d'anni. anzi, vi lascio in descrizione, anzi non so, perché ce l'ho messo non ci voleva, vi lascio in descrizione il link al video YouTube della mia cover, così ci leviamo subito il pensiero, andate a dare un'occhiata. Se vi piacesse quella cover potete continuare la visione di questo tutorial, se non vi piacesse vi sconsiglio di continuare la visione perché tanto io vi spiegherò come fare quella cosa lì. Bene, sempre in descrizione metterò anche un link per scaricare questa magnifica tablatura e perché no, crepi la varizia, anche un link per scaricare il testo con gli accordi sempre facendo riferimento alla mia versione. Ok, quindi io vi suggerirei di o stampare comunque di mettervi sotto mano la tablatura perché andiamo un pochino a vederla insieme e potete farla adesso, eh? Vai! Fatto? Eh, bene, divento sempre simpatio, penso siano effetti della quarantena. Allora, se avete la tablatura a mano, vi volevo solo dire una cosa, vedete ci sono i numerini delle battute in alto, quindi dalla battuta 1 fino alla battuta 6 parliamo dell'introduzione, poi c'è la battuta 7 e 8, ci ho messo due pause, tenterò di farmi capire, e poi dalla battuta 9 alla 17 parliamo del pezzettino musicale centrale che poi viene ripetuto anche sul finale, quindi diciamo tra l'introduzione e questo pezzettino ci sarebbe di mezzo un po' tutta la canzone, io ci ho messo due pause, ma non perché dura due battute la canzone, ma per fare uno stacco fra le due cose perché volevo mettere tutto nel solito foglio. Ok. Ma bando alle ciance, vediamo subito... Io a partire dall'introduzione, cioè mi sembrerebbe una cosa, eh? Perché partire dalla fine. Allora, provo a suonarla, eh? Ok. Il ritmo vedete anche dalla, come vedrete anche dalla tablatura e 6 ottavi, quindi insomma si va tutto su questo arpeggio qui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Che insomma il nostro tablizio lo usa veramente tanto e vediamo appunto subito l'introduzione. Allora, partiamo, battuta numero 1, da il posizione normalissima di La minore. Ok? Quindi, come poco da dire, basta fare come c'è il segnato lì, mettete il La minore e poi pizzicate la quinta e la prima corda contemporaneamente e viene fuori sta roba qui. Poi pizzicate la quarta, la terza, la seconda, sempre senza fare nulla con la mano sinistra. A questo punto dovete mettere il mignolo qui sul terzo tasto sempre della seconda corda e risuonarla. Poi a questo punto velocemente, cioè velocemente, a tempo, insomma si può anche già togliere l'accordo di La minore, contestualmente si suona la prima corda a vuoto e si va subito a mettere il Si minore. Capito? Per, per, cioè bisogna un po' anticiparsi per non arrivare in ritardo a questo Si minore. Scusate. Ok? Quindi siamo alla battuta a due col Si minore e quindi non va affatto altro che qui su questa battuta a due non si farà niente con La sinistra, si rimane fermi su questa posizione e si suona la quinta e la seconda corda contemporaneamente e poi la quarta, terza, terza, quarta, terza, ok? Questa è una soluzione, cioè bisogna far emergere la melodia dagli accordi e poi le altre note sono un po' riempimenti. Ecco io ho segnato così, poi si dovrebbe fare anche diversamente. Ok, ora andiamo invece alla battuta numero tre che c'è una cosa un po' più interessante in quanto abbiamo un La minore però non torniamo alla posizione standard del La minore ma andiamo a finire qua. Quindi quinto tasto, facciamo un mini parrè sulle prime tre corde e pizzicheremo contemporaneamente la quinta corda a vuoto, quindi rimaniamo con il basso come facciamo sempre quando facciamo un La minore però lo facciamo qui. Quindi questa quinta corda a vuoto e seconda corda, scusate, ok? Poi la terza corda, seconda, prima, seconda, terza e viene fuori quindi rifacendolo tutto una cosa tipo sì. Questa cosa qui. Quarta corda, eh sì, quarta battuta, andiamo a mettere la mano sinistra così, quindi anche questo sarà un accordo con una viteggiatura ben diversa da quella che si fa di solito. Sfruttiamo sempre la corda a vuoto, il basso, con la sesta corda a vuoto, ok? Però come dita delle mani sinistra mettiamo così, quindi metteremo l'indice, questo non preme nulla, l'indice premerà il settimo tasto della prima corda, il mignolo sul nono tasto della terza corda, no, della seconda, scusate, e l'anulare sempre sul nono tasto, se non dico male, della terza, ecco, questo affare qui, ok? E si va a suonare, no, come ho fatto ora, scusate, ma la sesta è la seconda, quindi così, poi la terza, seconda, prima, seconda, terza, viene fuori questa cosa così, ok? Non so se si vuole collegare con quella prima, lo mettiamo a stedita così, torna, e poi siamo alla battuta numero 5, andiamo a rifare il A minore proprio come abbiamo fatto sulla battuta 3, quindi rimettiamo sto mini barret sul quinto tasto delle prime tre corde e suoniamo questa volta quinta e prima, mentre l'altra battuta abbiamo suonato quinta e seconda, qui invece quinta e prima, poi la terza, la seconda, la prima, la seconda della terza, ok? E poi diciamo da qui comincia l'arpeggio della canzone, io quindi ho segnato sulla battuta 6 di fare l'arpeggio in questa posizione qui, però non la vieterebbe di farlo anche qui, eh? Non è che... Però insomma, andiamo qua, poi tanto cominceranno gli accordi, diciamo, di semplice accompagnamento al cantato. Molto bene. Allora diamo un pochino un'occhiata, magari si canta e si suona, eh? Non sto ora a dirvi tutti gli accordi perché avete il testo con gli accordi e quindi, eh, diciamo non ci sono poi cose molto particolari anche sul tempo, c'è solo ora, ve lo spiego, un si settima che dura un po' meno degli altri accordi. Quindi arrivati lì. Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato in più, canto, però canto bene, non so se tua madre, sei altrettanto capace a vergognarsi di me. Ecco, questo si settima, vedete, dura molto meno rispetto agli altri accordi. Però canto bene, non so se tua madre, sei altrettanto capace a vergognarsi di me. Si settima potete farlo così, senza stare neanche a mettere il dito qui, eh? Perché tanto sarà proprio... No, lo so, sì. Ok. La gazza che ti ho regalato, è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai? Insomma, non proprio a cantare, per quello ci sono già io, come sai? Ora mi sono un po' ombrogliato, volevo fare il simpatio, lo splendido anzi, e farvela tutta, così a ghiaccio. Però, insomma, più o meno il pezzettino centrale è questo. E comunque tanto lo ri... Eh sì, mi sono ombrogliato sul si sete, non mi sono un mi, va bene. Eh, è l'emozione. Comunque ora seguiamo tutto dalla tablatura. Oh, partiamo dicendo che la battuta nove, come vedete, ci sono delle piccole... delle pause. E' segnato solo quell'1-3 sulla seconda corda. Perché in effetti, diciamo... Ok? Su questa battuta nove c'è solo questo... è un levare finale, no? Non è una battuta completa, via. Quindi si parte, diciamo così, dalla... dalla seconda corda... Primo tasto... Poi... terzo tasto... Ok? No, la battuta nove è semplicemente questa cosa qui. Poi andiamo a mettere un La minore, normale... E suoniamo la quinta e la prima corda insieme. Poi la terza... La seconda... Poi, quando andiamo a risuonare la prima corda, buttiamo l'indice piatto... Ok? Alzo questa attradita di farvi vedere cosa intendo... Sì, che va a fare un mini barret fra la seconda e la prima corda. Quindi, la prima corda, vedete, deve essere premuta sul tasto uno. Lo facciamo con l'indice piatto, così. Poi la seconda corda... E di nuovo la prima corda, però rimettendo la... La posizione del La minore, normale. Quindi la battuta 10 è così. Ok? Poi andiamo a mettere un Mi, normalissimo... E suoniamo la sesta e la seconda corda contemporaneamente. Poi questa cos'è la quarta... La terza... Poi la seconda... Eh, sì, la seconda, sì, a vuoto. E poi andiamo a rifare un po' quello che era all'inizio della battuta 9, no? Quindi sulla seconda corda il tasto uno e il tasto tre. Quindi conviene, già che siamo così nella posizione del Mi, fare un po' quello che facevamo anche sul La minore, buttiamo giù l'indice, che quindi ci premerà la prima corda senza stare a smontare tutto. Ok? Quindi questa battuta 11, fondamentalmente come l'ho segnata, è così. Ok? Era già nella 12. Fermiamoci alla 11. Ok? Così. Allora, poi se va alla battuta 12, rimettiamo la posizione del La minore e facciamo quinta corda e prima corda contemporaneamente. Terza. Poi a questo punto, vedete, sulla prima corda... Allora, diciamole tutte le note, sennò perdo pezzi. La battuta 12. Quinta e prima contemporaneamente. Terza. Seconda. Poi quando si va a suonare la prima corda dobbiamo mettere il mignolo, così, sul terzo tasto. Poi mettiamo il La minore con però l'indice schiacciando il primo tasto, quindi a mini barré. E alziamo l'indice. Quindi una cosa così. No, scusate. Così. E poi la battuta 13, rimettiamo una posizione di Mi e suoniamo sesta e seconda corda contemporaneamente. Poi la quarta, la terza, la seconda. Poi andiamo sulla prima. A questo punto possiamo smontare tutto, mettere l'indice sulla prima corda, primo tasto. Ok? Quindi rivediamo. Allora. Così. Allora, il servo che va alla battuta 14, mettiamo un accordo di Sol, basta guardate, mettere queste due dita qui. Quindi l'anulare, sesta corda, terzo tasto. E il mignolo, prima corda, terzo tasto. Ok? Quindi si suona la sesta e la prima contemporaneamente. Poi la terza, la seconda. La prima però togliamo il mignolo e mettiamo l'indice a premere il primo tasto della prima corda. Poi seconda, terza. Quindi sarà così. Torna. E poi andiamo a rimettere il A minore, siamo alla battuta 15. E suoniamo quinta e prima corda contemporaneamente. Poi la quarta. Poi la terza. Poi la prima a vuoto, quindi non abbiamo spostato nulla rispetto al A minore. Ok? Poi andiamo a mettere, e si può togliere tutto il resto, il mignolo qui sul terzo tasto della seconda corda. E poi sul primo tasto sempre della seconda corda. Quindi questo sarà così. Allora, possiamo andare a mettere sto si settima, come un po' come vi avevo detto, quindi così. Ok? Allora, mettiamo indice sulla quarta corda, primo tasto. Medio, quinta corda, secondo tasto. Anulare, terza corda, secondo tasto. Mignolo no, questo si può omettere. Allora siamo al B7 e suoniamo la quinta e la seconda contemporaneamente, ok? Poi la quarta, la terza. Poi andiamo a risuonare la seconda. Poi mettiamo il mignolo qui sulla seconda corda, terzo tasto. E poi andiamo a fare, ancora una volta, una sorta di mini barré con l'indice, che mi va a chiudere il primo tasto della seconda corda. Ok, rivediamo questa battuta a sedici. Così. E poi mettiamo, per la battuta 17, un Mi. Vedrete che ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, nel senso che l'ultima nota può andare un po' più lunga. Sarebbe finito. Io posso anche provare a rifarlo. Sarebbe finito. 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 Sarebbe ribuko, sarebbe finito, solo ora si vuoi le migliori Se seguo nota nota mi inceppo, vado molto meglio sia a memoria. Comunque, insomma, fondamentalmente il pezzo è questo. Secondo me è carino, dai, ci stava. Spero abbiate apprezzato e fatemelo sapere. Se vi piacciono questi tutorial, io continuerò a farne un po' finché ne avrò voglia, dai. Allora, vi auguro una buona serata e vi do un arrivederci al prossimo video che sarà un tutorial o chissà, una cover, o una ricetta di cucina. Vediamo. Ciao, buonanotte.